Ciao cara, ciao tesoro, come stai? Bentornata, sei abbronzatissima come il film, sei super abbronzata, sei nera come il carbone, fantastico, beata te, io guarda sono bianca come il latte, guarda, una mozzarella, come stai, tutto bene? Benissimo, sono contenta, guarda, sono contenta anche di ritrovarti, di rivederti, bella, felice, allegra, solare, sei proprio, buona giornata di sole, è uscito il sole da quando sei entrata in questa stanza, è entrato il sole, allora dimmi tutto, che trattamento volevi oggi? Ok, lo struccaggio al viso, e un po' di massaggi, un po' di hand movements magari anche, un po' di mouth sounds, suoni con la bocca, insomma qualche tico 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 tico, sc 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 sc, tap 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 tap, ok? Cose così, perfetto, allora quindi, ci strucchiamo, ti strucco, anzi si, diti pure, accomodati, ti strucco, intanto chiacchieremo un po' delle tue belle vacanze, dove sei andata, cosa hai fatto? Ok, sì, ho un sacco di prodotti da farti provare oggi, veramente tantissimi, mi sono arrivati nella spa, qui nella mia spa, nel mio centro benessere, un sacco di prodotti validissimi, nuovissimi, che te li devo assolutamente far provare, non vedevo l'ora che venisse a trovarmi, ok, accomodati, io metto il microfono attaccato al colletto, e così ho le mani libere e posso accarezzarti, curarti meglio, ok, voilà, speriamo che tenga, allora mi tolgo un attimo l'anellino, perché non vorrei rovinarlo, tanto si toglie in fretta, voilà, perfetto, se vuoi dopo, spazzoliamo anche un po' i capelli, stavo guardando qui, perché sono piena di oggetti, intorno a me, con questa spazzola bellissima, che so che ti piace tantissimo, ok, ci spazzoliamo un po' i capelli dopo, ma prima di tutto, ok, sei seduta qui davanti a me, sei truccata, ti vedo, però sei super abbronzata, guarda, non sai quanto ti invidio, iniziamo lo struccaggio dalle salviette, queste quali conosci già, so che ti piacciono, le uso anch'io, un po' di plastic sound, ok, adesso ti spazzoliamo, ok, adesso ti spazzoliamo trucco, ma prima, hai capelli sciolti, io per fare i trattamenti, uso sempre alle mie clienti, un bel elastico, guarda che bello, questo l'ho comprato anche per me, hai visto che meraviglia, tutto diamontato, pieno di glitter, di brollantini, è un elastico così per capelli, bello spesso in tessuto, vieni qua, che ti lo metto in testa, ok, vieni qua, perfetto, guarda che bello, ok, voilà, così, perfetto, così hai capelli legati, almeno possiamo lavorare meglio sul tuo bel viso, da struccare, allora, dicevamo, le salviette, prendiamo un paio, anche una sola pasta, ok, qua, e te la passo così, è bella fresca, tu patisci come me anche il caldo, però ti sei abbronzata tanto, anche se patisci il caldo, tesoro mio, ok, te la passo subito così, chiudi gli occhi, scratch, 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 passiamo bene le ciglia che ha il mascara, che con queste salviette mi sa che non lo togliamo, facciamo la prima struccata, anche un po' di massaggini sul tuo bel viso, carezze, 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 ok, non ti preoccupare tesoro, se non ha struccato il mascara, la salviette, e da voi passiamo una bella mousse detergente per il viso, che è un prodotto nuovo, 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 che voglio passarti, ok, esatto, sì, voilà, fantastico, adesso poi mettiamo anche una bella crema viso, guarda che bella questa, ne ho due, ma questa qui è nuova, te la voglio provare assolutamente, te la voglio far provare, ok, voilà, allora, sì il mascara è rimasto un pochino, quindi usiamo questa mousse viso, guarda che meraviglia, è una mousse, sì, esatto, proprio una mousse, detergente viso della Cosmi, Cosmi Premium, 150 ml, bianca, sembra panna, è stupenda, sì, sono un estetista, una massaggiatrice, una struccatrice anche, guarda che bello questo tappo, così, aveva il tappo di plastica che io ho tolto per non fare troppo rumore, e questo tappino, così, prendiamo un dischettino, un dischettuccio di cotone e agitiamo, perché c'è scritto di agitare, prima dell'uso, spruzziamo, sperando di non macchiare dappertutto, ed esce la, la spuma bianca, guarda che meraviglia, te l'ho detto che sembrava panna, guarda che bello, sul dischetto bianco non si vede, ma fidati che, adesso così, te lo andiamo a passare sul viso, così si struccherà bene il mascara, scusa i cani, ma non posso zettirli, ok? Allora, con un altro dischetto andiamo a chiudere tutto, andiamo a coprire tutto, e facciamo così, chiudiamo leggermente, così, voilà, te lo passo sugli occhi, Allora, aspetta, dall'altra parte, te lo passo sugli occhi, così andiamo a struccare il mascara, ok? Sì che poi andiamo a sciacquarlo con l'acqua, sugli occhietti, così il mascara si toglie con questa schiuma, tieni gli occhi chiusi, bravissima, occhi chiusi, Perfetto tesoro mio, andiamo a struccarlo in bagno, ok? Andiamo a struccarlo in bagno, sì, con un po' d'acqua, così faccio gli hand movements che ti piacciono tanto, ok? Voilà, perfetto, un altro dischettino, così, la togliamo tutto, a schiuma, la togliamo tutta, ben bene, Tico 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 tico, voilà, a posto, questa la possiamo togliere, te la consiglio, la vendiamo noi, Mousse detergente viso, morbida, fresca e confortevole sulla pelle con aloe vera e non brucia assolutamente, assolutamente, Poi vediamo un po' cosa posso fare adesso, la crema viso, perché tanto struccata sei struccata, non ti serve nient'altro, hai la pelle di porcellana, Questa è una bambolina, questa è una crema, una maschera per le mani, se vuoi farla te la consiglio, te la posso lasciare, te la porti a casa, Che dici? Ti piace, ti interessa? Un omaggio per l'amicizia che hai nei miei confronti. Adesso io ti metterai un po' di questa crema viso, 24 ore, idratante ed equilibrante, aloe vera, tutto con l'aloe vera, Perché sì, se sei un pochino arrossata dopo l'estate, dopo il caldo, il sole che hai preso in vacanza, L'aloe vera riequilibra la pelle, aloe vera bio, puro di carità, anche biologico, ok? Te ne metto giusto un po', un'unghia, ok? Un pochino, sul dito, sulla mano, Tanto è bella densa e bianca, è molto valida questa crema viso, vedi? La spalmo un po' sulle mie mani, l'applico sul tuo viso, tanto ho le mani pulite, le lavo sempre, non ti preoccupare, ok? Voilà, e l'applichiamo così, movimenti sul tuo viso, applichiamo la crema, così poi ti lascio andare a casa a fare le tue commissioni, Bella tranquilla, con la pelle super idratata, idratata, la pelle del viso super idratata, ok? Mascara comunque con quella mousse, se ne è andato del tutto e non ti ha bruciato neanche gli occhi, vero? Perfetto, 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 senti che buona? Mamma mia, buonissima questa crema viso all'aloe vera e burro di karité, burro di karité, burro di karité, ok? Tesoro, io direi di lasciarti così con la pelle struccata per oggi, poi se esci stasera a dire i trucchi un'altra volta, ma il mascara io lo metterei poche volte perché visto che facciamo una fatica bestiale a struccarlo Comunque se vuoi ti posso mettere adesso un po' di lip gloss, ti va? Lo scegli tu? Certo, allora, tu e te ne posso far scegliere due di lip gloss, guarda capelli? Ok, due colori, uno più chiaro, questo qui e l'altro un po' più scuro, ciliegia, rosa o rosso ciliegia, quale vuoi? Questo ciliegia, perfetto, allora lo apriamo, non so perché sia unto, forse io ho le mani unte, speriamo di riuscire ad aprirlo Adesso vediamo se riesco ad aprirlo Non riesco, mi sa che questo te lo regalo Ho le mani troppo unte, non riesco ad aprirlo, tesoro mio non riesco ad aprirlo Lip gloss comunque, da 3,3 ml, questo qui anche te lo regalo, guarda Se lo puoi mettere stasera che devi uscire, te lo puoi mettere stasera, io non riesco ad aprirlo Perché ho le mani unte, devo andarmene a lavare, quindi ti lascerei così Per oggi i trattamenti li abbiamo fatti, ah ti sciolgo i capelli, vieni qua Elastico, ok, guarda che bello, questo qui è veramente bellissimo in tessuto, vero? Stupendo Ok, voilà, mi rimetto l'anellino anche se devo andarmi a lavare le mani perché l'ho tutte unte Mi dispiace, se riesci ad aprirlo tu te lo metto, se non riesci, neanche tu non riesci, ah perfetto Allora lo tieni per stasera così ce l'hai già pronto, se devi uscire o da domani in poi te lo posso regalare, certo E quando verrai di nuovo da me troverai quello più chiaro, tra i tuoi lip gloss, questo qui più chiaro, l'altro è rosso ciliegia Ok, va benissimo tesoro Sono contenta di averti aiutato, ti ho struccata Come mi fossi struccata io No, non hai bisogno del correttore, lascia perdere, lascia che la tua pelle respiri, ok? Adesso quasi quasi questa maschera viso, questa crema me la metto anch'io Sì, che ieri ho fatto una maschera ma un po' di crema viso tutti i giorni va messa sul nostro visetto Che dici? Adesso che ti saluto me la metto anch'io Vuoi che ti pettino i capelli? Vado a lavarmi le mani e poi ti pettino i capelli Oppure ci vediamo una prossima volta E ti curerò solamente i capelli Va bene Alla prossima allora tesoro Alla prossima Buona giornata Ciao A presto